Nel cuore della vecchia Cesenatico, la bottega del Libraio vi aspetta con libri del passato, antichi e meno antichi, idoli esauriti, vecchie edizioni di grandi classici, volumi ormai improbabili, e poi quadri, ceramiche, oggetti di arredo che raccontano le loro storie. Se amate la lettura e subite il fascino del passato, sarà un piacere immergervi in un ambiente in cui il tempo si è fermato. La bottega del Libraio è a Cesenatico in via Fiorentini 37, 333 36 60 000. Chiuso domenica e lunedì, visita la nostra pagina Facebook, la bottega del Libraio, anche su Instagram.